bella ragazzi sono Aros, bentornati in questo nuovissimo episodio di Viet Cong 2 eccoci eccoci qua dove ci stiamo dirigendo? praticamente qua va dentro perchè visto che è capodanno vietnamita dobbiamo festeggiare no? ok oh aspetta ci sono i fuochi artificiali là guardali là vabbè è capodanno ti voglio vedere entriamo ok allora il bagno volendo così tutto rosno tutto sfasciato così allora allora ho chiuso qua se in realtà noi dobbiamo salire aspetta che c'è anche questa porta possiamo aprirla no non possiamo aprirla ok allora vi dico subito che la festa si trova qua ho chiuso qua ho chiuso qua Ok, sì, come me lo ricordo è come, questa parte con il bicchiere in mano, che possiamo sventolare all'aria così. Dai, sventoliamo, ok. C'è stato un salvataggio automatico, benissimo. Eh no, purtroppo non possiamo mangiare tutta questa roba, purtroppo. No, però possiamo sventolare il bicchiere. Quanta roba. Allora, godete la vista del tetto e parla con il colonnello. Allora, il repotatore vuole andare all'interno. E questa volta, le nostre forze sono davvero spettando la visione del B.C. e del N.V.A. Un momento, chiedo al Presidente. Mi sono sicuro che questa è la nostra ultima città di Vietnane. Quindi, amici, vieni a mezz'interno. Non c'è problema, io informo la sicurezza. Ok. Io voglio un po' di 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 un po'. Ok, adesso possiamo andare. Sì, senti, ti levi per favore, grazie. Ok. Alla salute, ragazzi. E' felice anno nuovo. Oh, eccoci arrivati. Great, here's a nice view of the central square. I'll take some snapshots. Grazie a tutti Ok ci stanno sparando Attenzione Inboscata Allora sì Dobbiamo andare per di qua Occhio che qua si può Morire male Occhio che qua si può morire male Eh però lo ha colpito un po' Allora Bene Allora se ha fatto un salzaggio automatico però Non lo faccio anch'io uno Ok Uh da qua Attenzione Perché qua Ne sbucca già uno Ok eh Che cosa ho detto Ok Abbiamo fregato la pistola questo Ok Però aspetta No mi sa che Il volume è un È un È un po' basso Vabbè Vediamo se così Va meglio Allora qui abbiamo Un Remington Che Lo prendo Ti re riprendolo Allora Che cacchio Allora In questo gioco possiamo portare fino a tre armi per volta Quindi una pistola e due E due fucili che sono fucili d'assalto, mitragliette, fucili a pompa e altre robe Dobbiamo andare per di qua Aspetta che però mi devo cambiare perché il fucilio a pompa in queste Grande stanze non mi sembra il caso Allora Porco Aspetta già cominciamo Ma che cazzo Levati Che arma ha questo Molto meglio Sì 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 Molto meglio Carichiamo sto Sto arnese Oh porco Oh Ecco Noi che Già il gioco qua Comincia ad essere figo Visto che Con già le sparatorie tutte Anche perché qui stiamo Stiamo già morendo eh Io Io ve lo dico Eh già qua con mille Mila armi Allora Ah ecco qua Ecco qua il pronto soccorso Quindi se siamo feriti Basta Utilizzare questi Ok Non dovrebbe esserci Nient'altro Va Utilizziamo Fucilo a pompa No perché qua Non mi fido Eh Troppo lento Papapapapapapapapapapa Se qua la Musca Sì Bloccata Ma è proprio Fatta Apposta Aspetta È bloccato No 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 Qua ci Sparano Qui stiamo Basti Andiamo Da quest'altro Lato E' bloccato ah adesso è aperto oh cazzo aspetta sono no perchè ne ho visti alcuni anche qua sopra ora non so se ho visto male io eh è morto si ok occhio qui è sempre utile vedere ogni tanto le le loro armi cos'hanno eh no il Thompson ha vinto però solo 30 munizioni eh mi sa di si ahia cazzo sparano da fuori no niente continuo di utilizzare sto qua no dall'altra parte qui ne sono entrati da qua ok abbassati cazzo non ne vedi che ti stanno ammazzando anzi in realtà stanno stanno ammazzando anche me aspetta che qua ce n'è uno ok è morto cazzo cazzo E' un'altra cosa che si riuscite, si riuscite a te. E' un'altra cosa che si riuscite? Di dove? Dicci dove andare? Ma dove andare? Ma che si riuscite, ti dimentico! Guardate, capitano, gli altri sono nella strada! Parla più, più riuscite, e io mi racconto con questi ragazzi! E' un'altra cosa che si riuscite! E' un'altra cosa che si riuscite? E' un'altra cosa che si riuscite a casa con il tuo carico, spero che non ti fai mai. Già, già ho finito tutte le munizioni Bello Ho già finito tutte le munizioni Wow Oh, meno male che c'ho Tutte le munizioni almeno, ok Ora già sono come le squadre E li puoi comandare, sì Perché una particolarità è questo gioco Che possiamo dare ordini In stile Rainbow Six Quindi Come fine Oh merda È un casino Perché No, non lanciare le cose Vabbè Un fottuto casino Spera che ci sono quelli Eh, non muore Cazzo No, io devo canoneare le Comandi Perché non ne posso mettere su fine Un comando del genere Cazzo Dove sono? Eh, ma sarà Ah, uno era qua dietro Guarda l'altro dov'è Ma io questo tasto lo devo assolutamente cambiare Oh, là Adesso va meglio Occhio che c'è uno là che sta rompendo le balle Allora, noi dobbiamo andare là Adesso ci penso io a questo, eh Abbiamoci le munizioni Abbiamo già No, abbiamo già le cose al massimo Corri, 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 corri Allora qua ci sarà una zona Eh, ecco quella là Eh, ci ha finita la stamina Non corre più Ecco Ci siamo E salva immediatamente Wow Che cos'è Grande Ok, munizioni Granate Grande Quindi andiamo qua sopra E cecchiniamo Mi sembra pure giù No Sali Eh, l'M L'M14 E un La 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 Cazzo Eh Porco No L'ho preso Eh, adesso è morto Veloce a caricare Oh Ma questi stanno entrando, eh Difendi l'ingresso Difendi l'ingresso Eh, in realtà noi stiamo A questo Io sto difendendo l'ingresso Cazzo Porro quello No, è È, è troppo bello cecchinare Oh, guardalo là Sì Si è Lanciato Tu Occhio a no Ha battuto l'elicottero Aspetta, ce n'è uno là Ma che cazzo Non muore Gli ho sparato in faccia Beh, ce n'è un altro? Sì No Questo l'ha mancato Cazzo Finito le munizioni Spero di non cadere Aia, 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 aia Che cazzo mi ha sparato? Beh, ce l'avevo pure In singolo qua Eh, ma certo Sì Adesso che li Facciamo questa Ce n'è uno là in fondo Ah, aia Guarda quello che Stava entrando Stealth Hai visto? Sì, però andate voi, eh Perché io qua Non posso Andate Ok, sì Dobbiamo andare là Aia Appassati Cazzo Ma che mira di merda Dobbiamo andare là Aspetta che c'è uno là Eh, vi ho, vi ho visti Aspetta, com'è che si faceva con il lanciagranate? Porco Non mi ricordo Non mi ricordo il lanciagranate No, non buttare Porca di quella Ah, ah, ah Così, così Così La Sì, è Eh Ok, ora Dobbiamo ritornare la base veloce 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 corri 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 cazzo cosa che dobbiamo fare vabbè dobbiamo difendere qua spregati dov'è l'ingegnere? vabbè lui è il medico cazzo oh ti sbrighi che non ho più munizioni vieni porca di quella vacca la miseria addirittura tutti quanti dentro qui levatevi mamma mia che mira guarda lì come volano bam la cazzo che credi di fare è morto? senza di sé oh grande arrivano i nostri e che se si fermano lì? oh dateci una mano che si fermano i nostri mentre il primo cavo e il 5th marines puoi tornare in l'arco di Hue. Il primo missione è di cercare una bridge all'arco del Hwang River, qui nella città imperiale di Hue, l'arco della Repubblica di South Vietnam. La intelligenza di capturati V.C. rivela che il bridge è garrisonato con l'arco di soldati nord-vietnamese e l'engenziore di Viet Cong. American forces dimenticate che l'arco di nord-vietnamese hanno riggedo l'arco con molti explosivi, e hanno ordine per l'arco quando gli u.s. tanti cercano di crossarlo. Il 5th marines, sotto la commande del Capitano Boone, ha stato ordinato di eliminare l'arco di l'arco di l'arco di Hwang River. Ok ragazzi, ma direi che per questo episodio di Viet Cong 2 direi che è tutto. Vi ricordo che se non sono qui, se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco, se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco, mi raccomando anche la vostra, nei commenti, consigliarmi, consigliarmi tutto quello che volete. E noi ci risentiamo a un prossimo video. Bella. Bella.